Ciao a tutti, sono Eleonora, faccio parte di Non una di meno Genova, che è un movimento transfeminista sul territorio che poi ha tutto... ci sono vari nodi su diversi territori e abbiamo anche un movimento nazionale. Oggi siamo ai Giardini Luzzati a fare un swap di talè che sono piante, libri e vestiti, in maniera tale da sostenere lo scambio eco-solidale e schienare un po' la strada verso l'8 marzo, faccio un po' di volantinaggio. L'8 marzo è sciopero nazionale e noi scenderemo in piazza con un corteo alle 18 da Piazza Caricamento. Scioperiamo dal lavoro di cura, dalla violenza patriarcale che ci occorre ogni giorno e cerchiamo di farlo tutti insieme e questo è appunto il momento di scambio, non soltanto di cose ma anche di idee che possono essere politiche o meno. Questo evento sta andando bene, abbiamo avuto grande risposta sui social, tendenzialmente sono cose che piacciono alla gente, ci piace anche a noi ritrovarci nelle strade della città e proprio prendere parte della vita cittadina e quindi proprio uno scambio a livello popolare con la gente.